Una nuova vita per Castel Camponeschi, complesso medievale del borgo di Prata d'Ansidonia in provincia dell'Aquila, che con l'avvio dei lavori di recupero e modernamento si appresta a diventare il nuovo polo attrattivo per il turismo abruzzese. Questa mattina il taglio del nastro per l'avvio del cantiere, gli uffici tecnici e amministrativi del Consiglio regionale dell'Abruzzo stanno gestendo l'intera fase attuativa dell'intervento, dal progetto alla realizzazione, finanziato dai fondi complementari del PNRR con un primo lotto già operativo da 3 milioni di euro. Un grande onore di poter partecipare all'inizio della rinascita definitiva di Castel Camponeschi, che non poteva che essere un'opera fuori sacco, diciamo così, perché è un'opera di tutti, di tutto l'Abruzzo e diventerà un luogo di attrazione nazionale, vedrete alla fine di tutti i lavori se non sarà così. Sono molto felice di aver, da Presidente del Consiglio, non avrei mai pensato da ragazzo venendo in questi luoghi di ridornarci da Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo per inaugurare il cantiere. Il Vice Presidente Sant'Angelo esprime la propria soddisfazione per i tempi spediti dell'iter progettuale e segnala i principali interventi di valorizzazione. Il Consiglio regionale è ente attuatore di questa misura del piano nazionale di resilienza, è ente attuatore, tra l'altro un grande lavoro svolto da tutta la struttura tecnica sotto la guida del nostro direttore Paolo Costanzi perché a maggio 2022 avevamo chiuso già la progettazione, abbiamo fatto tutti gli adempimenti di gara e adesso gennaio 23 stiamo inaugurando il cantiere dell'Opera che a ottobre tra l'altro dovrebbe essere finita secondo le tempistiche e il cronoprogramma dei lavori. Quindi noi vogliamo che sia un borgo, non solo d'elite che attragga persone che vengano a visitare i nostri territori ma sia anche un borgo che si ricollega al Comune di Prada d'Anzitonia, che non siano due corpi estrani perché il castello fa parte della storia di questo territorio e il territorio non deve dimenticare da dove viene. Infine il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, Raffaello Fico e Walter Franco Rosa, titolare dell'omonima ditta esecutrice dei lavori, descrivono il contenuto più tecnico del restauro. Con oggi iniziamo a vedere anche dei primi segnali importanti di complementarità alla ricostruzione fisica perché questo è un caso di sviluppo del territorio che si aggiunge appunto alla ricostruzione. È una ripresa socio economica che passa dalla valorizzazione di monumenti, di attività che sono connesse al recupero di manufatti di grande valore storico a cui stiamo aggiungendo anche altre azioni immateriali come ad esempio la realizzazione di cammini che uniranno queste bellezze del territorio. Oggi c'è stata la consegna di questo primo lotto di intervento sul recupero di Castel Camponeschi. Prevederà la rimessa a nuovo il recupero di tutti quegli immobili che erano destinati ad alloggio. Quindi diciamo la parte, il cuore diciamo del castello dall'ingresso fino più o meno a tutto il percorso diciamo con le viabilità già eseguita.